L'alba, la barba, la curva della gola, rasvegliate, che scorri di gonna, la luce ancora a sonno, ma si dà, un tono da ostetica che è urgente, apri gli occhi sul mondo partoriente ed è a disposizione. L'alba, la barba, presa con le buone, offrire la gola al tocco leggero, l'alba, la lanolina candida, gli uccelli appostati sull'aria, come i chiori senza quadri alle pareti. E' ancora mattina! I pesci, i pesci, i pesci, i pori, i pori, cosa succederà alla ragazza? Vede i pori con le corna come i tori. Le corna curve sono due ferventi trafficanti a bassa voce sotto la croce, sotto la croce. Nel loro dialetto antico, nel loro dialetto pratico, che la vogliono far burrire, che la vogliono suonare, che la vogliono suonare, appesa al campanile, che la vogliono ricoprire, di cioccolata, che la vogliono suonare, che la vogliono suonare, in bocca! Ah, una bocca sterminata di forno! Che cosa le giocca, sentire che cosa, allora ricordarsi di fare delle pose, delle fotografie che possono sempre servire e non se ne parli più. Gesù, Gesù, non se ne parli più, Gesù, Gesù, è ancora Martina. Tutti sono pronti a bere qualcosa e poi si riprendono il fiato per fare le bolle acustiche che non vogliono ogni animo. Che la vogliono aggiustare, entriamo in un portone. Che la vogliono un po' scoperta per accertare. Che la vogliono nell'ascensore. Per implorarla, tagge piano, a che piano. Acquetta, Fuchino. La gloria all'ottavo. Che la vogliono ricoprire di cioccolata. Che la vogliono servire in bocca. E' una bocca sterminata di forno. Che cosa le tocca. Quasi la vogliono. Che cosa le tocca. Che cosa le tocca. Che cosa. Che cosa le tocca. Grazie a tutti.